Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Magic e oggi siamo tornati su House Flipper. Volevo come sempre dare un benvenuto a tutti i nuovi iscritti, mi raccomando, se sei nuovo iscriviti, lascia un bel pollicione, condividi e commenta questo video. Non perdiamoci in troppe chiacchiere e andiamo subito a giocare con il nostro bellissimo Umberto. Buona visione! Eccoci qua nel nostro ufficio ragazzi, allora, nello scorso episodio avevo detto che avremmo sistemato il nostro ufficio e andremo a farlo, ma vorrei fare un attimino una missione, giusto per prendere ancora un po' di soldini, come vedete siamo a 17.500, ci hanno dato i soldi della volta scorsa. Io direi, andiamo sul tablet e vediamo un po' che cosa ci propongono. Abbiamo Faccenda Rapida, un modesto aiuto, mini museo, e quello lì è quello del tutorial, non so, magari lo farò io off camera senza problemi. Allora, io direi, possiamo fare Faccenda Rapida, è vero che ci dà solo 4.000, però almeno facciamo su qualche soldina in più e in questo episodio riusciamo a fare sia una missione e sia a sistemare il nostro ufficio. Andiamo a leggere cosa ci chiede Carletto Pestifero. Salve, mi chiamo Carletto. La situazione è questa, i miei genitori sono andati via per il weekend. Abbiamo fatto una festa con i miei amici Lamparty e Minecraft, penso che sia, anche se alcune cose non sono andate come avremmo voluto, perché Mattia si è addormentato tutto equipaggiato nella vasca da bagno, volendo prima lavarsi. Ma cosa? Ora c'è tutta la cucina da ripulire e parecchia acqua da asciugare, le farò un piedistallo se farà in tempo. Non voglio che la mamma smetta di cucinare. Quindi se non finiamo in tempo, mamma non cucina più. Allora, ci dà 4.000 e se noi clicchiamo qua sotto su compiti, ci dice quello che abbiamo da fare e alla fine, se completiamo l'ordine in 7 minuti, ci daranno un premio aggiuntivo. Quindi direi, accettiamo immediatamente e andiamo a vedere un po' come è conciata la casa di questo Carletto. In quest'ordine, il tuo limite è il tempo. Rimani entro il limite indicato e il cliente di certo non mancherà di ricompensarti. Ah ok, quindi è anche un mini tutorial. Allora, buttiamo la spazzatura. Quindi dobbiamo riuscire a fare tutto entro 7 minuti. Non penso ci siano dei lavoroni da fare. Come vedete in alto a sinistra abbiamo il timer. Puliamo anche tutta questa roba qui. E il corridoio è completato. Ora mi dice in cucina di buttare la spazzatura. E la madonna però che festa hanno fatto. Ho visto una cosa... Ho paura ad alzare la visuale, ragazzi. Ho visto una parete che... Ma che cos'è questa cosa qua? Ma cos'è? Ma per favore. Ma guarda qui, ma per favore. Ma io una cucina così... Ma non esiste. Hanno fatto un bel po' di spazzatura. Comunque ragazzi, fatemi sapere nei commenti se questa serie vi sta piacendo. Vedo comunque che è abbastanza seguita. La cosa mi fa molto piacere. Ti ricordo comunque di lasciare un bel pollicione in modo che io riesca a capire anche i vostri feedback. Quello che vi piace e quello che non vi piace. Oh, congratulazioni. Nuovo achievement. Va bene, continuiamo. Prendiamoci Flipcoin. E continuiamo a buttare questa spazzatura. Mi state dando tantissimi consigli anche per Don Star Wars. Io vi ringrazio infinitamente. Sto pensando... Adesso vediamo. Non è ancora una cosa sicura perché ho esplorato un pochino per i cavoli miei off camera. E non sono ancora riuscito a trovare quel maledetto bioma dei muffali. Comunque è una cosa che parleremo durante quel video. Vediamo se ricominciarlo o no. Creando una nuova mappa. Comunque continuiamo la serie ma in una nuova mappa. È davvero lurida questa cucina, eh. Comunque siamo 26 su 27 che dovrebbe essere questo qui, l'ultimo. Ottimo. Ora dobbiamo posizionare gli oggetti evidenziati. Quindi sistemiamo le sedie bene bene come erano prima. E ho notato anche che c'è da pulire. Perché c'è davvero dello schifo in giro. Questa qua dovrebbe essere una cosa abbastanza veloce. Vediamo se riusciamo a ruotarla. Perfetto. E mettiamola qua così. E infatti ci ho già selezionato in automatico il mocio. E quindi direi di pulire tutto lo schifo che c'è in giro. Se non mi sbaglio la volta scorsa siamo saliti di livello. Non mi ricordo con che cosa. Con le mani se non mi sbaglio ancora. Ma dovrei andare a rivedermi il video perché non mi ricordo. Vorrei salire di livello anche con il mocio. Perché vorrei che pulisse un po' più velocemente. È abbastanza lento. Ci mette il suo tempo. Come vedete almeno... Adesso non so. Non riesco a... Vediamo. Uno, due... All'incirca due secondi. Adesso non so. Fatemi sapere magari voi nei commenti che riuscite a vedere bene la tempistica del video. Dovrebbe essere all'incirca due secondi. Un secondo e mezzo. Comunque non lo so. 19 su 20. Se mi fate trovare l'ultima per favore. Per favore l'ultima. Ok non lo trovavo. Guardate dov'è. Sotto la cappa. Mamma mia. Due minuti e cinquantasei ci sono rimasti. Ok allora. Butta la spazzatura nella stanza del giovane. Vabbè qua siamo in bagno direi che continuiamo anche dal bagno. Madonna ma come l'ha ridotto. Aveva detto che il suo amico si era addormentato nella vasca perché voleva prima lavarsi. Però ha lavato il bagno. Non si è lavato lui. Guardate che schifo. Non so se faremo in tempo. Devo anche pulire tutti i muri. Poi ogni tanto si bagga la camminata. Invece che andare avanti e indietro si blocca e fa avanti e indietro. Avanti e indietro. Un loop continuo. Come potete anche notare ogni tanto quando clicco il joystick. Butta la spazzatura. Quanta spazzatura c'è ancora? Questo. E basta. Ok puliamo. Eh ma non ce la farò mai in due minuti e venti. Dai dai. Crediamo in noi come Naruto. Io credo in me. Nel cuore mio. Naruto. Naruto. Tra l'altro mi è venuto in mente Naruto perché mi sto riguardando tutta la serie online. E in quattro giorni mi sono già fatto. No in cinque giorni. Mi sono già guardato 191 episodi. Sono 220 e quindi l'ho quasi finito. Penso che per domani io l'abbia finito. Se non addirittura per oggi che esce il video. Anche perché durante la giornata sai quando uno non ha niente da fare si mette lì. E dopo Naruto. Vabbè mi guarderò sicuramente Naruto Shippuden. Senza ombra di dubbio perché voglio finirlo tutto. Allora ci dice che potremmo terminare. Però io non voglio terminare ancora. E dopo Naruto Shippuden vorrei vedermi. Oh qua c'è l'altro sporco. Vorrei vedermi Digimon. Voglio riguardarmi Digimon. Fatemi sapere se voi avete guardato queste serie. Immagino di sì. Magari non tutti ma la maggior parte. Penso che Naruto e questo. E la madonna. No ragazzi non ce la faremo mai. Oh di qua è pulito però. Allora vediamo. Un minuto. Abbiamo solo un minuto per buttare questa spazzatura. Sei. Sette. E l'ultima è qua l'ho vista. Otto. Vediamo un po'. No. No no no. Molla molla molla. Devo buttare la spazzatura. Ok. Ok ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Purtroppo la mamma ha smesso di cucinare perché è venuto fuori che il nostro padre ha allagato la cantina. In ogni caso ecco i soldi. Ah beh. Mille ci ha dato di premio. Però vabbè. Meglio che niente. Ci siamo ben cuccati. Cinquemila. Quasi quasi. Io userei dieci flip coin. Ma sì li usiamo. Così ce li danno subito. E possiamo anche farci il nostro ufficio. Ed eccoci qua. Non so se lo finiremo tutto in questo episodio. Ma potremmo iniziare a mettere qualcosa. Io venderei tutte queste cose che non ci servono. E facciamo una cosa. Vendo al volo al volo. E torno subito da voi. Per voi guarda è giusto un battito di ciglia. Ed ecco fatto come avevo detto giusto un battito di ciglia. Dovrei solo vendere questi due lampadari qua perché sono davvero inguardabili. E possiamo iniziare a decorare la nostra casetta. Direi che per quanto riguarda i muri possiamo pensarci magari. Magari ci penso io off camera o magari in un prossimo episodio con calma lo possiamo fare. Iniziamo con l'arredamento. Iniziamo dalla camera da letto. Vedo già che il secondo letto a me piace tantissimo perché è azzurro. Azzurro a me piace un bordello. È uno dei miei colori preferiti. Anzi è il mio colore preferito. E lo vorrei più o meno centrale così. Ok. E il letto ce l'abbiamo. Magari un bel comodino lì. Quindi forse meglio il comodino o anche l'armadio perché se voglio mettere l'armadio lo metto come era prima. Vabbè poi ci pensiamo. L'armadio potrei anche metterlo qua volendo. Passiamo direi alla cucina. Vediamo un po' che cosa ci offre il gioco. Non l'ho ancora guardato bene tutto. Allora cartes blanchées che sono quelli che abbiamo già sbloccato. Penso che siano quelli base. Non volevo spendere troppi soldi perché ripeto in un prossimo episodio vorrei poter prendere una casetta da ristrutturare completamente noi. Però questo millennium a me piace davvero tanto quindi lo sblocco. Non costa neanche tantissimo. Direi di stare sul classico. Ok così ad angolo. Molto bene. Mi piace. Intanto sblocchiamo gli achievement. Come vedete i bitcoin ce li dà comunque durante il gioco. Non è troppo un problema. Servono per appunto sbloccare gli oggetti e per potenziarci quando possiamo salire di livello con un oggetto di quelli che abbiamo qua. Come vedete il mocio, lo scanner, la spatola e bla bla bla. Prendiamo anche l'ultimo pezzettino perché mi piace comunque averla completa e direi che lo possiamo mettere qui in fondo. No non ci sta. No guardate come viene. Rimane fuori lo spigolino. Allora facciamo così. Qua invece che questo io direi che potremmo andare a metterci un bel frigorifero. Il K2. Il K2 mi piace particolarmente. Oh guardate che carino. Sì sì decisamente. Ecco qua. Almeno anche lui ha una casa un po' più dignitosa perché dove viveva prima era davvero un tugurio. Io direi di prendere il fornello base. Tanto non ci interessa particolarmente. È solo di estetica. E lo mettiamo qua così. Perfetto. Ma perché no? Mettiamoci anche una bella K. Giusto per completezza. Anche perché una volta che noi vorremmo andarcene questo posto lo possiamo vendere. Quindi direi di decorarlo al meglio possibile. Non da sfenderci un puttanaio. Ma da decorarlo il più possibile. Vediamo. Un paio di decorazioni che facciamo. Non ce le mettiamo? Ma sì. Mettiamoci qualcosina. Giusto così. Per far capire che qua si può anche cucinare. E mettiamo anche un bellissimo set da coltelli qua contro il muro. Ole. Io prenderei anche un orologio e lo metterei tipo qua all'entrata. Così quando uno vuole uscire di casa, vede che ore sono. Perfetto. Sono le 15-5. Ma non è vero perché non sto registrando quell'ora. Quindi l'orario del gioco non coincide con quello reale. E perché no? Qua sopra il letto ci mettiamo anche un dolcissimo cagnolino. Oh guardate com'è puccioso. Carino carino. Ok basta allora. In una cucina che si rispetti non può mancare il forno a microonde. Io direi di piazzarlo esattamente qua. Non troppo in angolo. No vabbè. No 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 non venderlo. Va benissimo così. Lasciamolo lì così. E direi che questa zona è quasi fatta. Mancano giusto due abbellimenti. Adesso vediamo se troviamo un comodino. Anzi vediamo cosa ci offrono. Io passerei all'illuminazione e metterei questo qua. Vuvuzela che mi piace tantissimo. Come vedete qua sulla sinistra ho messo anche un armadio. Sempre quello base che ho già sbloccato. Anche perché ripeto non voglio spendere tantissimo per questa case... Questa stanza perché è casetta. Un monolocale proprio monolocale perché è piccolissimo. Ecco magari così che passa sotto il letto non mi dispiace. Così uno quando scende da letto ha i piedi belli caldi sia a destra che a sinistra. Ecco la zona letto è davvero una cosa quasi inguardabile. Però lo spazio è quello che è ragazzi. Non possiamo lamentarci. Ci sarebbe da fare anche il bagno ma sto registrando davvero da tantissimo. Quasi mezz'ora che registro e per un giochino così mi sembra alquanto esagerato. Direi che possiamo fermarci qua. Abbiamo abbellito un pochino il nostro mini appartamento. Chiamiamolo così. Abbiamo ancora 15.600 da parte. Magari off camera vedrò di mettere da parte qualcosina in più. Vediamo se ho tempo e se riesco. Ma io ti ringrazio per essere rimasto fino alla fine. Ti invito a iscriverti se sei nuovo. Lascia un bel pollicione, condividi, commenta e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!